Musica Olivicoltori delle province di Forlì, Rimini e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 38esimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna dell'8 ottobre 2021. Un saluto dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna e dall'Aipo-OP. Fase fenologica, siamo in invaiatura e maturazione. Per quanto riguarda l'analisi delle olive, questa settimana l'indice Gen è salito nella media di 3. Sappiate che l'indice di maturazione per essere ottimale deve essere superiore al 3,5. Per quanto riguarda il tenore di grassi, siamo intorno al 18,6. L'umidità è scesa al 53%. Considerazione dei tecnici. Le precipitazioni sopraggiunte in questi giorni stanno ben idratrando il terreno e le piante. A questo si aggiungono gli abbassamenti di temperatura notturna, che scendono a 9-10 gradi centigradi e che tendono a rallentare la maturazione che, come è stato riportato nel grafico, che trovate all'interno del periodico, mantiene una costanza di crescita in grassi. Mancano in effetti non molti giorni, probabilmente una quindicina, per raggiungere il completo sviluppo e trasformazione degli zuccheri in grassi all'interno delle olive, che per noi rappresenta l'olio. Iniziamo già a raccomandare che le olive, una volta tolte dai teli, vanno poste in cassette della capacità massima di circa 25 kg, o in cassoni di plastica, bins, di circa 200 kg di capacità sovrapponibili di tipo forato, sia ai lati sia sul fondo, per una maggiore aerazione del frutto. Le olive, appena colte, andrebbero portate subito in frantoio, per essere molite. Nel caso siano necessarie delle attese, sappiate che non devono superare le 72 ore. Situazione fitosanitaria, mosca delle olive. Continua il controllo della presenza di adulti sulle trappole. Al momento non si riscontrano catture significative. Pure le infezioni hanno basse percentuali. Si evidenzia invece una limitata ripresa delle ovide posizioni. Però il successivo sviluppo delle uova è rallentato dagli abbassamenti delle temperature. Negli olivetti dove si applica una difesa da agricoltura biologica e si utilizzano come adulticidi lo spinosad, dopo le sovraggiunte piogge va riprestinata la copertura. Situazione locale. Zona di Rimini. Catture di adulti moderato. Livello di infestazione moderato. Cesena-Forlì. Catture di adulti moderate. Livello di infestazione moderato. Occhio di pavone. Lebra piombatura. La prolungata bagnatura fogliare e l'elevata umidità stanno favorendo lo sviluppo di parassiti funginei. Si consiglia quindi, data la vicinanza al momento della raccolta, di non attuare alcun intervento fitosanitario. Eventualmente si interverrà subito dopo gli stacchi. Anche in questa settimana i tecnici sono a vostra disposizione per il calcolo dell'indice di maturazione, sia col metodo Jean, sia col metodo FOS. Per quanto riguarda i periodi e i momenti ottimali di campionatura e i modi di esecuzione, vi invitiamo a verificarlo sul periodico della scorsa settimana. Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario rivicolo dell'Emilia-Romagna. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.